Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, qui è sempre Libano Siamo qui con il secondo episodio di questa stagione di testa a testa La prima partita siamo riusciti a portarla a casa all'ultimo minuto grazie a un gol di Dries Mertens Adesso andremo a invitare bella FIFA per questa seconda partita Come abbiamo spiegato nello scorso episodio, chi andrà a vincere la stagione Riceverà un ammontare di crediti pari al numero delle vittorie moltiplicato per 10.000 Quindi se alla fine delle 5 partite io ne avrò vinte 3 o lui 3 Andrò a ricevere 30.000 crediti o lo andrà a ricevere lui Se per esempio delle 5 partite due finiscono in pareggio, una la vinco io e due le vince lui Sarò io che darò a lui 20.000 crediti, ma lui non dovrà dare a me 10.000 Perché soltanto chi vince avrà diritto a guadagnare questi crediti Adesso aspettiamo al volo che lui accetti l'invito Andiamo a vedere la sua squadra, infatti è un 3-5-2 Brasiliano, veramente strano a vedere Hulk come punta Ma l'intesa è 100, quindi alla fine ha ragione lui da farlo lì Andremo a vedere quanto fila da torce limiterà Comunque la squadra è decisamente più forte questa ragazzi Anche se ha un punto debole secondo me della difesa che è Enrique Staremo a vedere se riuscirò ad incidere proprio dal suo lato O se dovrò farmi spazio da qualche altra parte Parte la partita, Hulk verso Bernard Indietro per Leonardo che perde subito palla E allora parte Ibarbo, Ibarbo va Ibarbo può andare da solo ragazzi Ibarbo è un bug unico Ibarbo ragazzi Ibarbo è un bug unico È 1-0 dopo un solo minuto Purtroppo mi dispiace anche fare un gol del genere Però Ibarbo è veramente qualcosa di scandaloso in questo gioco Pagato 12.000 crediti perlomeno quest'anno si fa valere Siamo sul risultato di 1-0 Mertens può girarsi Mertens punta l'aria Mertens, Mertens, Mertens Può andare Mertens Dries Mertens 2-0 al quinto minuto Unizione severissima adesso per Bella FIFA Partito un po' peggio della prima partita Siamo sul 2-0 dopo 5 minuti Ma non dobbiamo abbassare la testa Dobbiamo cercare di rimanere sul pezzo e mantenere il risultato Barzagli Palla ancora per Iguain Il Pipita Di nuovo uno contro uno Il Pipita Il Pipita Il Pipita 3-0 al tredicesimo minuto Doppia capriola Anzi una sola Ma è 3-0 ragazzi Al quattordicesimo minuto Va Bernardo Tutto solo 3-1 Difeso malissimo qui ragazzi Ho fatto una serie di contrasti nel vuoto Ed è 3-1 Io l'ho concesso io E lo sciaraui Rigore Ma come lo fa a non essere rigore questo? Incredibile De Rossi allora De Rossi Per Mertens Dries Mertens Grande azione di De Rossi Dopo il rigore negato Arriva il 4-1 Di Dries Mertens Un giocatore veramente fenomenale Qui bella La doppia finta di De Rossi Che poi serve Mertens Che si gira benissimo Il portiere forse poteva fare qualcosa di più Siamo sul 4-1 comunque Finisce il primo tempo ragazzi Risultato di 4-1 7 tiri in porta 7 tiri per me 2 tiri in porta 5 tiri per lui Una partita molto più frizzante della scorsa Cerchiamo di tenerla e portare a casa anche questa volta Alla battuta Naldo perde il pallone Forse no Palla per Leonardo Per Bernardo Ancora Leonardo Leonardo parte tiro Grande parata di Diego Lopez Si fa trovare pronto Al 54esimo minuto Caccia d'angolo adesso La batte corta Verso Gioasinio 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 può andare Si infila Gioasinio Il tiro rete Gran gol di Gioasinio Se ne va Sul fondo Chiudo male io Bravo lui a dribblare Al 54esimo minuto È 4-2 Si riapre un po' la partita Dribbling Il barbo sbaglia tutto È il partito Hulk Hulk Si ferma Palla per Gioasinio Posizione regolare Gioasinio Il portiere Il portiere cosa fa Il portiere Cosa combina Qui È 4-3 Incredibile Una partita che Sembrava chiusa Riaperta adesso Al 65esimo minuto Quando manca ancora Veramente tanto Siamo Si risultava di 4-3 Hulk Allora Hulk Hulk può andare Hulk 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 Chiude tutto Parata Benissimo Di Diego Lopez Che cazzo fa Non ci credo Non ci credo Queste cose comunque Non dovrebbero più capitare Ogni anno Succedono queste cose La palla qui ce l'avevo nettamente io Il portiere ci si tuffa Non si sa perché Travolge l'avversario Del calcio di rigore Una partita incredibile Riaverta Hulk dal dischiere Mi ha detto Diego Lopez Dovrà intuire il tiro Mi butterò Alla mia destra Sperando che lui Non tiri centrale E infatti è andata Alla mia sinistra Peccato Siamo 4-4 Rigore che Onestamente Ci sta Però Cioè Ci stava Al livello di regolamento Ma a livello di gioco Che cazzo fa Al portiere Non si sa Siamo 4-4 Dobbiamo adesso Cercare di Andare a vincere Ma a questo punto Mi direi anche quasi Tentare di riuscire A tenere questo punto Perché Lui è riuscito a farmi Praticamente 3 gol Tutti di fila Si riparte Ibarbo 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 Serve Candreva Candreva Rete Incredibile Grande gioco di gambe Di Ibarbo Sul lato Palla e mezzo Per Candreva Che con un gran dribbling Si vive la dell'avversaria E poi con un diagonale Incrocia Le spalle di Diego Alves Che qui davvero Non può nulla 5-4 ragazzi Rossi Può servire Ibarbo Che serve Candreva 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 per Ibarbo 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 Può servire Il Sharawi Il Sharawi Come un treno Il Sharawi Stefan 6-4 Anche questo Un bel gol Ibarbo Si gira dall'altra parte Vedete l'inserimento Di Il Sharawi Con un mancino La infila alle spalle Del portiere Candreva 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 Serve Il Sharawi Il Sharawi Può andare Può puntare l'uomo Il Sharawi Il Sharawi Se ne va Il Sharawi Il Sharawi Il Sharawi Partia il tiro Ibarbo La blocca Diego Alves Doppia varata Qui Guain Verso De Rossi De Rossi Ancora Palo incredibile Credo di Dries Mertens Palla qui Per Iguain Iguain Può andare Allora Iguain Victor Ibarbo La chiude lui 7-4 All'89esimo minuto Allora Castanvers Ibarbo Ibarbo Iguain Gol Dell'8-4 Gonzalo Iguain Finisce qui Ragazzi La partita Risultato Di 8-4 Grande prestazione Di tutta la squadra A discapito Di come potrebbe sembrare Il risultato Anche lui Se l'ha giocata Molto molto bene Ha fatto 4 gol Ed ha avuto anche Molte altre opportunità Che un po' per Diciamo Sua distrazione Forse Un po' per Grandi parati Di Diego Lopez Non è riuscito A concretizzare Siamo quindi A 6 punti In questa stagione Ragazzi Dobbiamo cercare Di vincere Anche la prossima E credo che saremo Già campioni Ma non lo so Perché non ricordo bene Come funzionano Le stagioni Dalle statistiche Però possiamo vedere Che ho fatto 19 diri io 16 diri in porta 11 diri lui 7 diri in porta Quindi comunque A meritare Meritavo questa partita Andiamo a 6 punti Comunque punti per vincere Il titolo Sono 2 Quindi si Basterà una vittoria Nelle prossime 3 partite E andrò a vincere La prima stagione Ragazzi Da Libano è tutto ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Sperando che Vi stia piacendo Questa serie Sperando che le partite Siano sempre così Movimentate Lasciate un like al video Iscrivetevi al canale Postate dalla pagina Facebook E dal forum Bella